Sì, sicuramente scenderemo al campo con lo stesso spirito visto oggi, perché non possiamo fare altrimenti. Noi dobbiamo giocarci la permanenza in sedia in questo momento, quindi non possiamo lasciare nulla sul campo. Una squadra che rispettiamo, una squadra fatta di amici, di persone serie, con le quali ho dei rapporti anche di amicizia. Spero che rimangano tali anche dopo la partita, comunque sì, è parte di scherzi. Sarà sicuramente una bellissima partita da due squadre che giocano molto bene a calcio.